Oggi all'uscita dall'ospedale il signor Berlusconi ha dichiarato che è stata un'esperienza durissima quella che ha vissuto e sentendo quelle parole mi è venuto in mente quando io cinque anni fa esattamente l'otto di giugno del 2011 uscendo dall'ospedale mi ritrovai in questa casa ora ricostruita fra le macerie essendo stata distrutta da un fatale da una fatale esplosione dalla quale scaturì il fuoco che mi bruciò vivo e rimasi con le mani sciolte dal fuoco gli occhi la bocca e quando veni a casa mi ritrovai fra le macerie abbandonato dal comune che non mi invia nemmeno un assistente sociale e rimasi per 30 giorni senza mangiare senza bere senza lavarmi senza vestirmi al freddo rischiando di prendermi infezioni e morire oltre tante difficoltà che ho già raccontato sui vari video pubblicati qua su questo canale e su vari post e allora disperato forse peggio vivendo continuamente con la morte vicino perché in ogni momento un'infezione poteva uccidermi decisi di scrivere al signor berlusconi che allora era il presidente del consiglio dei ministri inviai la prima raccomandata anche se facevo fatica perché le mani erano sciolte e non rispose ma io non chiedevo soldi non chiedevo niente chiedevo soltanto che se per caso lui che aveva incontrato tanti uomini potenti sulla terra avesse voluto anche rincontrare uno tra gli ultimi che ero io come mi sono sempre definito perché in questo modo se lui fosse venuto il comune di milano le istituzioni sarebbero mosse avrebbero almeno ripulito la casa permettendomi almeno di guarire di fare la convalescenza fra in un ambiente pulito ma non rispose delusione enorme perché l'ho sempre considerato una persona in gamba da quello che raccontava e così mandai anche una seconda raccomandata ma come il cielo sa inutilmente io so quello che ho sofferto tremendamente adesso lo sa anche il signor berlusconi come dire ma bisogna per forza soffrire per capire cos'è la sofferenza degli altri ovviamente tengo precisare che il signor berlusconi non è stato l'unico al quale che scrissi perché scrisse anche il presidente della lombardia della regione lombardia formigoni che non rispose come al sindaco di milano che lo stesso ad altre persone comunque era solo per dire che quelle parole che ha detto oggi uscendo dall'ospedale il signor berlusconi mi hanno fatto vivere la mia situazione di allora quanto poco ci voleva rispondere avere un po di umanità verso un ragazzo che stava morendo e fu proprio in quell'occasione che disse al creatore dio mio dio mio dove è finita l'anima dell'uomo l'anima dell'uomo Grazie a tutti.